Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una crostata con la crema al pistacchio. Iniziamo la preparazione. Usiamo 170 grammi di burro, mettiamo lo zucchero, 120 grammi, mescoliamo tutto insieme. Schiacciamo per bene il burro. Ho ammorbidito per bene il burro con il zucchero. Tipo così. Adesso mettiamo tre torri di uova. Mescoliamo tutto insieme. Mettiamo un pizzico di sale. Mettiamo un cucchiaino di lievito per i dolci. Aggiungiamo la farina. 300 grammi di farina 00. Settacciamo la farina. Aggiungiamo la farina. Lavoriamo in pasto con le mani. Aggiungiamo la farina. Aggiungiamo la farina. Aggiungiamo la farina. Aggiungiamo la farina. Copriamo con la farina. Copriamo con la farina. Ho coperto per bene la ciotola con la farina. Copriamo con la farina. Usiamo 400 grammi di crema al pistacchio. Mettiamo la crema in un pentolino. Ammorbidisco la crema al pistacchio a bagno maria. Ammorbidisco la crema al pistacchio a bagno maria. Usiamo uno stampo di 26 cm. Imburiamo il stampo. Aggiungiamo la crema al pistacchio. Dividevole pasto un po meno di metà. Aggiungiamo il stampo. Facciamo dei buchetti con una forchetta. Mettiamo la crema al pistacchio. 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 Mettiamo il pistacchio. Mettiamo la torta. Mettiamo il pistacchio. Mettiamo la crema al pistacchio. Mettiamo il pistacchio. Mettiamo la crema al pistacchio.